Grande accoglienza per Fabio De Luigi al Luca Comics. L'attore, imitatore e regista è arrivato al cinema Astra accolto da una folla di fans per presentare il suo One Prank Show dal titolo Amazing che andrà in onda prossimamente su Prime. De Luigi non si è sottratto all'abbraccio e alle foto di rito con i fans. Ciao Fabio, prima volta al Luca Comics? Sì, sì, prima volta, c'è sempre la prima volta e questa è la mia prima volta. Come ti è sembrato l'atmosfera? Beh, è un posto meraviglioso, con gente fantastica, con tante persone vestite in modi curiosi. È bellissimo, bellissimo. One Prank Show, chi lo sente per la prima volta non sa nemmeno che cosa significa. In 30 secondi che cos'è? È un One Prank Show destrutturato dove succedono tante cose sorprendenti, anche per chi dovrebbe essere il man dello show, cioè per me. Quindi è uno show pieno di sorprese per tutti. Oltre a De Luigi, nel pomeriggio c'è stato l'appuntamento con un altro artista italiano molto amato, Max Pezzali degli 883, che sul palco del Giglio ha presentato il suo comic book, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Luca Comics e Games. La pubblicazione introduce il nuovo tour negli stadi di Pezzali, programmato per il 2024, e a quello presentato a Luca faranno seguito altri capitoli.